Il Tribunale di Agrigento dispone il giudizio immediato a carico di Omar Edgar Nedelkoff, imputato dal duplice omicidio delle due romene a Naro. Il procuratore di Agrigento Giovanni Di Leo e il pubblico ministero Elettra Consoli ritengono evidenti le prove di colpevolezza e il giudice per le indagini preliminari del Tribunale Giuseppe Miceli ha condiviso e ha disposto il giudizio immediato, scavalcando il filtro dell'udienza preliminare a carico di Omar Edgar Nedelkoff, 25 anni, originario dell'Est Europa e residente a Naro, dove lo scorso 5 gennaio avrebbe efferatamente ucciso due romene, Maria Russe, 54 anni e Delia Zarnescu, 58 anni. Prima udienza il 26 settembre innanzi alla Corte d'Assise di Agrigento, che lo giudicherà per duplice omicidio e vilipendio di cadavere con l'aggravante della crudeltà. Naro, quartiere Santerasmo, la sera di giovedì 4 gennaio, una cena a casa di Delia Zarnescu in via Leonardo da Vinci. A tavola non mancano i superalcolici. Seduti anche Nedelkoff, è un suo amico, un romeno di 50 anni. Nedelkoff, ubriaco, molesta, Delia. Lei butta fuori tutti da casa. Il 50enne rientra a casa sua. Nedelkoff si reca nella vicina casa di Maria Russe, in nevicola a Venia. Di lei si è parlato durante la cena. Vive da sola, dopo la separazione dal marito. Lui ha abusato di lei? Interrogativo. Al momento senza risposta. Però l'ha massacrata, uccisa a botta e poi bruciata, appiccando il fuoco su una poltrona nel salone d'ingresso. Poi ancora lui torna a casa di Delia, sfonda la porta e con ferocia, brutale, le spacca in testa tutto ciò che ha a portata di mano, trucidandola. Nedelkoff ha tentato di costruirsi un alibi che è crollato subito. Infatti lui, che ha telefonato al 118 per soccorrere Delia Zarnesco appena aggredita mortalmente, ha raccontato «questa notte sono stata al bar con la mia fidanzata». Peccato che la fidanzata lo ha subito smentito. Non è vero, non solo non è stato con me nessun bar, ma mi ha anche chiesto di confermare la sua bugia. E anche il titolare del bar ha negato. Non è vero, non l'ho proprio visto nel bar. E poi Nevicola Venia, le telecamere di videosorveglianza all'esterno dell'abitazione di Maria Rus, morta carbonizzata dopo che lui avrebbe appiccato il fuoco, lo hanno registrato nitidamente, intento ad entrare e uscire dalla casa di lei. Dal video emerge fin anche che lui ha i pantaloni con la cerniera aperta. E poi l'amico di lui, il cinquantenne a cena con lui a casa di Delia Zarnescu e che poi, dopo essere stati buttati fuori da Delia e rientrato a casa sua, ha raccontato. Quando ho capito quello che era successo ho fatto a botte con lui, quando gli ho detto chiaramente che avrei chiamato i carabinieri. E poi, infine, la madre di Nedelkoff ha rivelato che il figlio si era cambiato i vestiti sporchi di sangue.